Ci metto un po' Alberto a lanciare il reto. Posso farti una domanda? Buonasera a tutti amici, Alberto certo mi vuoi fare una domanda, adesso te la faccio fare. Buonasera a tutti amici, benvenuti in questa serata di Effetto Farfalla. Questa sera abbiamo Alberto Lori, io Alberto ti ringrazio pubblicamente perché la prima cosa che ho riconosciuto, a parte la prima volta che si è visto con Alberto, ho trovato la sensazione proprio di coerenza tra quello che dice e quello che è. E ho avuto modo di conoscerlo in video ovviamente per ora ma in diretta ed è stato meraviglioso come incontro perché la prima cosa che lui mi evoca, ma penso come tutti gli altri, è che è una voce, è un verbo, è una voce, è un timbro che riconosco ormai registrato perché guardavo tutti i programmi dove lui prestava la voce. Quindi Alberto io ti ringrazio a nome di tutti davvero di cuore per essere qua, ma più che altro per la tua opera nel servire. Come dicevo prima di iniziare registrato, è il momento adesso per chi sente nel cuore che è arrivato il momento di mettere in condivisione quello che ha capito dal suo intuito e dalla coscienza collettiva a cui è connesso. Io non parlo mai Alberto di mie opere, proprio perché ho capito benissimo il concetto di essere tutti il tramite di qualcosa di superiore che appartiene a tutti. E come ha detto Alberto prima di iniziare, la verità è verità solo se la sentite dentro di voi perché tutto quello che dobbiamo sapere è dentro e non sta fuori, non dobbiamo andare alla ricerca ma ascoltarlo qui dentro. Siamo quantici questa sera, quindi sicuramente conoscete tutti Alberto, non mi perderò in descrizioni solite eccetera perché vogliamo andare proprio alla radice dei discorsi. Si parlerà della meccanica quantistica. Poi Alberto, come ti ho detto prima, alla fine di questo evento se ci vorrai descrivere e parlare del Quantum Channel è qualcosa davvero che consiglio a tutti perché io personalmente Alberto questo per quanto riguarda la fisica quantistica è entrata in me attraverso i tuoi video di cui adoravo e adoro soprattutto le immagini che scegli. Mi piace la questione della voce e delle immagini perché mi permette di unificare i due emisferi mentre guardo il tuo video e questo per me è veramente emozionante perché è anche una forma di risvegliare in me quei concetti di cui lui parla sapientemente e mi hai aperto in qualche modo la visione su questo tipo di argomento. Quindi io personalmente stasera mi godrò proprio in presenza totale questo dono perché è un dono che ci fa Alberto. Noi siamo un tramite, come spiegavo prima, abbiamo scelto di restituire quello che stiamo ricevendo attraverso questa opera. Non ci interessa se piaccia o no, ci interessa che sia utile. Non ci interessa che sia bella, ci interessa che sia pratica e per quelle persone in ascolto possa essere d'aiuto per iniziare a ricordare chi siete e quindi di conseguenza cambiare tutto il paradigma reale. Alberto io ti passo la parola, tu mi voli fare una domanda, chiedimelo pure, poi ti lascio la parola e iniziamo e vediamo dove arriviamo. No, la mia è una domanda, come posso dire, provocatoria. perché vedo un parterre de rois, anzi di regine, mentre i rois non ci sono proprio, voglio dire. Questo è un segreto Alberto, mi fingo interessato a questo argomento, ma in realtà sono tutte donne. questo però dimostra quanto le donne abbiano sempre una marcia in più e questo è il dato di fatto fondamentale. Un giorno vi spiegherò perché avete una marcia in più e perché siete multitasking e se esiste realmente un sesso forte siete voi e non certo noi. ecco, ma al di là di questo mi pare che l'argomento di questa sera che vi interessa è proprio quello della meccanica quantistica, vero o no? Fate così con la testa? Bravi! Bene, bene, almeno, oh, finalmente. E ora, vi siete mai chiesti ma che cos'è questa meccanica quantistica e soprattutto che differenza c'è con la fisica classica? Ve la siete fatta questa domanda? E vi siete anche date una risposta? Allora, intanto voi dovete sapere che appunto la disciplina che studia le leggi della natura è proprio la fisica. Però, voglio dire, noi parliamo di fisica quantistica. Non so se avete mai sentito parlare di un grande fisico italiano, anzi sono due di cui vi parlerò brevemente. Uno è Giuliano Preparata, l'altro è Emilio del Giudice. Ebbene, questi due fisici sono coloro che ci hanno effettivamente dato una risposta chiara di quale potrebbe essere la differenza. Ora, Giuliano Preparata mi dice e mi parla, purtroppo mi dice e mi parla in senso così è un po' figurato perché purtroppo entrambi non ci sono più su questa terra. Comunque, quello che io volevo dire è che Giuliano dice che la fisica classica è rappresentata da un alpino. Ma, conoscete, avete visto gli alpini, no? Come sono belli, hai tanti, con la penna in testa, che camminano diretti e diritti, anche se si tratta di una strettissima cengia su una montagna. Ecco, la fisica classica funziona in questa maniera. La fisica quantistica, invece, è quello stesso alpino che ha bovuto mezzo litro di grappa, che va ondeggiando a destra e a sinistra e che se trova un posto dove potersi stendere, fosse anche una bella buca, ci si stende tranquillamente. Ecco, già questa potrebbe essere una differenza sostanziale. Ma non è sufficiente per farvelo capire. Potrei aggiungere quello che dice, invece, Emilio del Giudice, il quale fa una differenza tra quello che può essere un'automobile che ha nel serbatoio le ultime stille di benzina e un gatto che ha le ultime stille di energia perché è affamatissimo. Qual è la differenza tra i due? Che la macchina, ovviamente, da sola non si muoverà mai per cercare un distributore, mentre, invece, il gatto userà le ultime stille di energia per andare a cercare il cibo per recuperare le sue forze. Questo che cosa vuol dire in termini spiccioli? Che la fisica classica studia i corpi inerti, cioè quei corpi che si possono muovere soltanto spingendoli o tirandoli, mentre la fisica quantistica studia le dinamiche dei corpi. E questo è già qualcosa di ben diverso. Allora, l'altra domanda alla quale immagino che vogliate che io risponda è perché la fisica quantistica applicata alla nostra vita quotidiana? O meglio, perché io parlo di psico-neuroquantistica? Beh, il discorso può essere molto ampio, ma l'aspetto fondamentale è che cerco di farvi capire bene qual è la base della quantistica. Sapete che cosa succede? Avete mai sentito parlare del famoso test della doppia fenditura? Che è la base fondamentale poi della fisica quantistica. Adesso vi faccio capire qual è la differenza di ciò che succede nel mondo cosiddetto macroscopico e il mondo microscopico delle particelle elementari, del mondo, diciamo, dell'infinitamente piccolo. In quanto, ovviamente, le regole della fisica classica valgono per il macroscopico, ma non valgono per il microscopico. Questo è l'aspetto fondamentale. Ma cerchiamo di capirci, anche per farvi capire bene, se no non riusciamo a partire nel modo più giusto e corretto. Fate conto che io abbia adesso un fucile a piombini tra le mani, no? E a un certo punto io spari attraverso una maschera che abbia una o due feritoie con questo fucile. Ovviamente questi piombini che passano attraverso le due feritoie o l'una feritoia, che cosa mi farà? Mi farà sul muro, ovviamente, una flangia d'urto di tanti piccoli forellini creati dai piombini. Giusto e chiaro questo? Quindi io sto sparando della materia. Tanto questo, per farvi capire quello che c'è e qual è la differenza tra la materia e l'onda energetica, cioè l'energia. Per farvi capire in termini macroscopici che cos'è un'onda, immaginate di avere di fronte a voi una piscina, con dell'acqua, ovviamente, e nella quale voi state creando una serie di onde artificiali. Mettiamo nella piscina quella stessa maschera con una doppia feritoie. Che cosa succede? Succede che quell'onda, creata artificialmente, si dividerà in due per passare, ovviamente, attraverso le due feritoie e dall'altra parte avrà un andamento radiale, un po' come quando gettiamo due sassolini in uno stagno. Si formano quelle onde concentriche che vanno a intersecarsi. Che cosa succede? Succede che si formerà sul muro opposto uno schema cosiddetto di interferenza. Cioè, che cosa vuol dire questo? Voi vedrete uno schema fatto di tante strisce bianche e nere. Questo perché? Perché quando le due onde si intersecano, e voi sapete che l'onda è fatta così, c'è una gobba e c'è un avvallamento. Ora, due onde si incontrano, quando si incontrano due gobbe o due avvallamenti, l'energia dell'onda si rafforza. Quando invece la gobba incontra l'avvallamento, l'energia si annulla. Ecco perché avete questo schema di interferenza di tante strisce bianche e nere. Bianche dove l'energia si è rafforzata, nera dove l'energia si è annullata. Chiaro quello che succede in campo macroscopico? Adesso scendiamo nel mondo dei quanti. E che cosa facciamo? Cominciamo a sparare contro una maschera con una o due feritoie delle piccole, minuscoli, corpuscoli di materia che possono essere, che vi posso dire, elettroni, possono essere fotoni, possono essere addirittura atomi, possono essere addirittura molecole. Succede sempre la stessa identica cosa. Allora, facciamo conto che spariamo degli elettroni. Che cosa succede? Succede che se sparo gli elettroni attraverso una maschera con una sola feritoia, gli elettroni che passano in mezzo, giustamente come avviene nel macroscopico, che cosa mi formeranno sul muro? Una flangia d'urto. Tanti forellini. Giusto? Mi seguite? Se invece metto una maschera con due feritoie, succede qualcosa di estremamente singolare. Perché io mi potrei aspettare che sparando piccoli corpuscoli di materia, passando attraverso le due feritoie, mi trovo che cosa? Mi trovo due flange d'urto. Invece, incredibilmente, quei corpuscoli di materia si sono trasformati in onde di energia e mi hanno creato questo modello di interferenza di strisce bianche e scure. A questo punto gli scienziati non hanno capito bene che cosa potesse succedere. Hanno immaginato che questi elettroni rimbalzassero uno contro l'altro, quindi creassero determinati eventi per cui si trasformassero in energia. E allora hanno pensato di sparare un elettrone per volta. Ripeto, potevano sparare anche un fotone, potevano sparare un atomo, potevano sparare una molecola. Bene, che cosa succede? Il mondo dei quanti si dimostra ancora più magico e singolare di quanto potessero aspettarsi, perché quell'elettrone non solo formerà dall'altra parte lo stesso pattern, lo stesso schema di interferenza, ma addirittura dà la sensazione di bilocarsi, cioè passa contemporaneamente attraverso le due feritoie. A questo punto, effettivamente, gli scienziati non riuscivano a capire. Loro già avevano avuto un'idea, perché vedete, questo test della doppia feritoia, e stiamo parlando ovviamente del Novecento, era stato fatto per la prima volta nel 1800 da un medico inglese che aveva la passione per la fisica, Thomas Young, il quale aveva creato questo test per dimostrare che la luce, passando attraverso le due feritoie, creando questo schema di interferenza, era realmente energia. Quindi contrastava con Newton, il quale, fin da giovane, si era divertito a far passare un raggio di luce attraverso un prisma e invece si era reso conto che la luce fosse corpuscolare. Cioè, in realtà, la luce aveva, la dimostrazione poi che ne è scaturita, è che la luce aveva questa duplice natura. Poteva essere sia corpuscolare, sia, cioè, formata da quanti di luce, che poi Einstein avrebbe chiamato fotoni, oppure, esclusivamente, onde di energia. Chiaro? a questo punto il fatto di sparare piccoli corpuscoli materiali, la stessa, ciò che avveniva per la luce poteva avvenire anche la materia, con la materia. Cioè, la materia poteva avere questa duplice natura, sia corpuscolare, sia ondulatoria. E allora, per capire bene che cosa passasse attraverso le feritoie e dove realmente passasse, gli scienziati quantistici hanno pensato, visto che sono anche abbastanza geniali, hanno pensato di mettere un rilevatore di particelle, cioè un osservatore che osservasse realmente dove passasse questo benedetto elettrone e in quale feritoia ovviamente passasse e che cosa passasse. A quel punto, ancora una volta, il mondo dei quanti dimostrò la sua singolarità. Cioè, è come se quell'elettrone o quel fotone o quell'atomo o quella molecola si rendesse conto di essere osservata. Per cui, da onda di possibilità, si era di nuovo trasformata in particella facendo il buco sul muro. Ed ecco il primo principio della quantistica che recita che è l'osservazione che collassa la funzione d'onda. Cioè, in realtà, perché funzione d'onda? perché effettivamente l'elettrone dimostrava questa duplice sua natura trasformandosi in una sorta di onda che andava a passare come nelle onde normali nel macroscopico a passare attraverso le due particelle dividendosi e creando quella figura radiale di cui parlavo prima. Questo è il fatto fondamentale. Allora, questo che cosa vuol dire? Al di là del fatto che se adesso mi dite di aver capito tutto della quantistica grazie al test della doppia fenditura uso le parole di Richard Feynman che è un altro grande fisico quantistico o siete matte o mentite sapendo di mentire questo diceva il buon Feynman ora però è estremamente importante questo aspetto perché vi prego di credere che a un certo punto questo dovete ricordarvi l'osservazione collassa la funzione d'onda che cosa vuol dire? Vuol dire che l'osservazione l'atto di osservare sceglie una delle onde di possibilità nella quale si trova quell'elettrone e la materializza quell'onda di possibilità in evento concreto è quello che noi facciamo regolarmente noi creiamo la nostra realtà in questa identica maniera la realtà non è fatta di oggetti di cose ben definite ma di onde di possibilità e questo è l'aspetto straordinario perché poi se la realtà fosse in termini soltanto ed esclusivamente oggettivi tutto ciò che capita a ciascuno di voi dovrebbe capitare a tutti perché la vostra realtà è soltanto esclusivamente vostra perché è una proiezione soggettiva e personale di voi questo è l'aspetto fondamentale ma che cosa vuol dire questo c'è un'altra legge che nasce dalla quantistica che ci dice là dove si fissa la vostra attenzione la scorre energia è evidente che se voi vi svegliate la mattina e immediatamente il vostro pensiero corre a quella persona che può essere un collega in fido che può essere un capo ufficio arrogante che può essere una persona che in passato vi ha fatto soffrire o che continua a farvi soffrire o pensate al luogo dove siete dove vivete che vi stringe come se fosse in una gabbia come se foste in una gabbia oppure quell'evento che vi è capitato nella vostra vita al quale voi imputate le ragioni della vostra infelicità del vostro insuccesso è ovvio che pensando immediatamente a queste cose e queste cose come dire questi pensieri sono talmente compulsivi che continuate a pensarci è il discorso che è valido per quello che riguarda la vostra attenzione è valido anche in questo motivo voi sprecate la vostra energia voi utilizzate la vostra energia e la disperdete in questi pensieri compulsivi e non avete altra energia per creare quello che è la vostra nuova realtà quello che può essere il vostro nuovo futuro ritorniamo a parlare di quantistica e parliamo dell'atomo ok avete presente che cos'è un atomo allora quando andavo a scuola io mi dicevano che l'atomo poteva assomigliare a un sistema solare c'era il nucleo e gli elettroni che giravano intorno con le loro orbite non è affatto così perché l'atomo è sì un nucleo centrale però non esiste non ci sono degli orbitali intorno come i pianeti che girano intorno al sole esiste soltanto una nuvola elettronica indistinta in forme per cui non si sa mai dove possa trovarsi questo benedetto elettrone lo si trova nel momento in cui lo si osserva in quella sovrapposizione di possibilità di dove possa trovarsi questo elettrone finite per materializzarlo no ma nel momento in cui distogliete la vostra attenzione e quindi l'osservazione l'elettrone ritorna ad essere un'onda di possibilità e questo succede anche nella vostra vita se voi smettete di pensare a quei pensieri compulsivi di cui parlavamo prima ritornano ad essere possibilità non più eventi della vostra vita reale lo capite o no chi è che forma chi è che crea la vostra realtà la vostra realtà è formata dalla vostra personalità cioè dal vostro modo di pensare dal vostro modo di agire dal vostro modo di sentire e se volete cambiare la vostra realtà non dovete far altro che cambiare il vostro modo di essere dovete perdere l'abitudine di essere voi stesse dovete cambiare il vostro modo di pensare il vostro modo di agire il vostro modo di sentire solo in questa maniera è possibile cambiare la realtà la realtà non si cambia da sola ma soltanto cambiando il vostro modo di pensare e questo l'aspetto il problema è un altro vedete quando noi nasciamo nasciamo ovviamente non siamo completamente tabula rasa noi nasciamo con una serie di informazioni che ci derivano dal codice genetico che ci derivano dal karma che ci derivano dalle informazioni che ci ha dato nostra madre nel periodo di gestazione perché se vostra madre era particolarmente nervosa e stressata certamente il bambino che nasce non è calmo è tranquillo quello è ovvio no poi che cosa succede che il bambino da 0 a 2 anni comincia ad assimilare nuove informazioni da che cosa dall'ambiente che lo circonda giusto immagino che abbiate avuto o dei figli o abbiate visto dei nipoti o dei fratelli o delle sorelle che a un certo punto circa intorno ai 20 mesi hanno cominciato ad accennare i primi passi dal gattonamento hanno cominciato a come dire a mettersi in piedi in equilibrio e a muovere i primi passi naturalmente la mancanza di abitudine e di allenamento porta il bambino o la bambina a potopunfete a cadere la prima cosa che fa quel bambino o quella bambina è guardare l'espressione della sua mamma o del suo papà se l'espressione della mamma è piena di apprensione che cosa fa il bambino scoppia a piangere per forza di cose quindi già acquisisce che cosa la prima informazione di insicurezza ci sono santi se invece questo bambino la mamma gli dice dai su avanti su alzati in piedi è normale qui purtroppo la vita è fatta di tentativi e di errori e gli errori ci servono proprio per crescere quindi tranquillo rialzati e cammina quel bambino acquisirà quell'informazione invece di sicurezza poi che cosa succede succede che dai 2 ai 6 anni questo bambino creerà la sua identità la sua personalità quella di cui parlavamo poc'anzi ma grazie a che cosa grazie a tutta una serie di informazioni che gli vengono date per esempio dalle persone che incontra in primis i genitori i parenti prossimi nonni zii fratelli maggiori gli insegnanti delle scuole materne della prima classe elementare e apro una parentesi queste persone specialmente dovrebbero essere non solo strapreparate dal punto di vista pedagogico e psicologico ma per conto mio strapagate perché da loro deriva la felicità dell'adulto di domani perché qualunque cosa viene detto a quel bambino che sia il genitore o che sia la maestra o il maestro visto che la fonte è estremamente autorevole entra a far parte dell'identità della personalità di quel bambino quindi se gli diciamo che sono belli simpatici e intelligenti questo saranno se gli diciamo che sono brutti antipatici e neanche tanto intelligenti anche questo diventeranno è chiaro il discorso poi secondo parametro per il quale noi creiamo il nostro modello il nostro programma al quale rispondiamo come qualsiasi pc o mac risponde al proprio software il secondo elemento dicevo è il luogo di nascita il luogo dove si vive no? perché è ovvio che è diverso nascere non so in un paesino di alta montagna con poche anime rispetto a chi è nato a New York a Londra a Parigi a Roma a Milano mi pare logico no? terzo elemento sono gli eventi che possono capitare quarto elemento le cose anche gli oggetti che fanno parte della sfera di conforto diciamo del bambino il quinto elemento è il tempo il tempo lineare questi cinque parametri formano il modello cioè che cosa? il sistema di credenze no? che finisce poi entro il trentacinquesimo anno di età questo è importante perché sono le neuroscienze che ce lo dicono per essere assolutamente come posso dire si è incancrenito dentro di noi noi rispondiamo per il 95% a quelle 60-70 mila pensieri che abbiamo ogni giorno che sono quelli di ieri dell'altro ieri di un mese fa di una settimana fa di un anno fa e saranno ovviamente probabilmente gli stessi pensieri che noi avremo domani dopo domani tra una settimana tra un mese tra un anno quindi come possiamo pensare di fare delle cose nuove continuando a fare sempre quindi è qui che bisogna intervenire e cercare di capire diventare realmente scienziati osservatori di se stessi perché è ovvio se noi continuiamo nella vita che abbiamo sempre condotto nel senso che per esempio vi faccio un esempio un esempio chiaro parlavamo prima di persone che ci hanno fatto soffrire se noi stiamo sempre a pensare a quelle persone che ci hanno fatto soffrire o a quell'evento che in qualche modo diciamo imputiamo la nostra infelicità attuale o qualunque altra cosa ma potete meravigliarvi se presto o tardi vi arriva un evento per il quale è giustificata la vostra sofferenza perché siete voi a richiamarla se siete dei rabbiosi se siete degli iracondi ci sarà sempre un'occasione per cui vi arrabbiate no? e vi irritate e allora se è così beh forse è il caso nel momento in cui desideriate in qualche modo di cambiare le cose le carte in tavola della vostra vita bisognerà che cambiare che cosa? quello stesso pensiero quello stesso sistema di credenze che crea la vostra stessa realtà sarà ancora più duro dicendovi io per esempio ho un'amica la quale vive con un uomo estremamente manesco quante volte gli ho detto insomma vedi un po' di trovare una soluzione ma la soluzione non è nel cambiare l'uomo perché richiamerà sempre nella sua orbita quegli stessi uomini violenti maneschi deve cambiare il suo modello deve cambiare la sua personalità se vuole veramente cambiare la sua vita se no noi introdurremo nella nostra vita sempre quelle cose che non ci piacciono perché i nostri pensieri sono sempre esclusivamente puntati su quelle cose noi creiamo il noto ciò che conosciamo benissimo mentre dobbiamo spostare la nostra attenzione il nostro il nostro come dire anche la nostra proiezione su qualcosa che non conosciamo e questo è l'aspetto fondamentale del quale dobbiamo renderci assolutamente conto ma mi state seguendo o vi siete addormentati Alberto guarda stai parlando di concetti praticissimi e molto profondi penso che tutti l'abbiano capito hai appena parlato della saggezza che arriva dall'incertezza quando l'uomo cavalca l'incertezza diventa saggio proprio perché non ha più un'identità definita è il senza forma e io ti sto ascoltando veramente appassionatamente tu hai toccato il punto fondamentale perché mi potreste chiedere sì d'accordo ma come si può fare perché vedete quando noi parliamo di atomo ritorniamo un attimo indietro ce ne andiamo conto che la materialità di un atomo in termini matematici è lo 0,0001% e chiediamoci allora che cos'è il 99,99999 il resto bene proporzionalmente voi tutti conoscete San Pietro forse per una volta ci siete andati bene San Pietro sapete quanto è vasto quanto è grande eccetera ebbene la materialità stabilendo queste proporzioni è esattamente una monetina di due centesimi nella vastità di San Pietro vi rendete conto? e allora chiediamoci realmente cos'è quel 99,9999 è vuoto che non è vuoto anzi è più pieno del pieno perché è energia energia lo stato potenziale che può diventare qualunque cosa è il campo quantico è il campo nel quale se noi fossimo junghiani potremmo chiamarlo inconscio collettivo c'è qualcuno che lo chiama l'energia del punto zero qualcun altro lo spazio delle varianti qualcun altro la matrix divina se andiamo nelle tradizioni antiche lo possiamo chiamare etere come Platone lo possiamo chiamare che vi posso dire il Tao secondo la filosofia orientale il prana per gli indiani il chi o il ci come lo volete chiamare il piano akashico vedete ci sono tanti modi per definire questo campo nel quale coesistono infinite onde di possibilità di tutto ciò che è stato e sarà cioè tutto quello che noi potremmo diventare è lì dentro tutte le informazioni di cui noi avremmo bisogno sono lì dentro e il bello è che non c'è bisogno di pagare internet perché questo internet al quale possiamo essere collegati 24 ore su 24 ci può dare tutte le informazioni che noi desideriamo ma il punto è questo come possiamo collegarci con il campo quantico o come lo possiamo definire come il campo unificato di infinita intelligenza e infinito amore che è già dentro di noi quella è la cosa straordinaria basterebbe affidarci all'intelligenza che alberga dentro di noi che ci fa vivere che cura le nostre funzioni vitali è quella stessa intelligenza che mantiene in orbita i pianeti intorno al sole che crea le supernove che fa sbocciare i fiori è la stessa intelligenza è quella ed è ciascuno di noi noi siamo le gocce del mare che parlando tra loro si chiedono ma che cos'è l'oceano di cui tanto si parla rendendosi non rendendosi conto che l'oceano sono proprio le due gocce voi e noi andiamo a cercare Dio quando Dio è dentro di noi ma come si fa a incontrare Dio o meglio il campo quantico come volete volete chiamarlo certo non possiamo andarci con l'ego non possiamo andarci perché la prima domanda la quale dobbiamo che dobbiamo porci è che veramente chi siamo noi ma siamo i nostri pensieri siamo le nostre emozioni siamo i nostri comportamenti memorizzati siamo le nostre reazioni emotive siamo il nostro corpo bene tutto questo addizionato certamente fa parte di noi ma non siamo noi e allora come andare a riconoscere quella coscienza non locale ecco questo è un altro aspetto della quantistica la non località sapete che differenza c'è tra locale e non locale bene grazie almeno tu Davide mi dai sono in una sorta di sono diventati tutti bloccati ragazzi un po' di vita vorrei Alberto io se vuoi ti dico che prima l'immagine che hai donato è bellissima voglio voglio condividere con voi una visualizzazione semplicissima ce lo insegna madre natura quel concetto quando seminiamo un seme all'interno del seme c'è già tutta l'informazione di cui parlava Alberto l'albero non diventa bravo a produrre frutti sa che è un'informazione che contiene e quindi inizia proprio uno scambio sinergico con il tutto di cui parla Alberto non ci possiamo arrivare con l'ego Alberto semplicemente perché l'ego è a protezione della nostra personalità e quindi l'unico modo a mio avviso e la metto sul piatto è il cuore magnetico è ritrovarsi è il sapere chi sei è il sentirsi unificato a quello che è fuori da me stesso e il che richiede un lavoro non ho capito la domanda che scusami scusami Domenico c'è stata una domanda ma non l'ho afferrata non ho fatto in tempo ci penso io Alberto non so cos'è la località la non località Natali e stavo arrivando a questo allora ve lo spiego ve lo spiego vai perché uno un'altra degli aspetti singolari della meccanica quantistica è quella che si chiama entanglement l'entanglement è tradotto si dice interconnessione in trecce cioè fate conto che io abbia tra le mani due particelle che possono essere due elettroni che abbiano interagito tra loro due mezzi fotoni insomma qualunque cosa di estremamente piccolo che comunque abbia interagito ebbene sapete che cosa succede succede che se io separo i due elettroni consideriamo anche un fatto che gli elettroni abbiano hanno un andamento particolare una vibrazione che può essere in senso orario e ovviamente visto che esista una polarità l'altro avrebbe uno spin si chiama così una rotazione anti-oraria bene c'è quindi un elettrone A e un elettrone B adesso io prendo l'elettrone B e lo spedisco domenque dall'altra parte dell'universo non ha nessuna importanza qualunque sia la distanza ebbene se io faccio passare il primo elettrone quello che ha lo spin in senso orario attraverso un filtro di polarità che gli cambia lo spin facendolo diventare istantaneamente da orario ad anti-orario sapete che cosa succede? succede che a qualunque sia la distanza e qualunque sia il tempo cioè che vuol dire nel passato o nel futuro la particella B cambierà istantaneamente il suo andamento da anti-orario che era ad orario quindi pensate bene quello che succede è una delle cose più incredibili è quello che ha fatto pensare e ha fatto dire ad Einstein che Dio non gioca ai dati perché lui non ci credeva tanto a questo aspetto che poi è stato poi provato in realtà proprio in laboratorio prima era una teoria poi è diventata pratica grazie a uno scienziato che si chiama Alain Axpect negli anni 90 che ha fatto proprio questo questo esperimento un esperimento che poi è sempre stato sì no stavo sentendo vedendo quello che mi stava scrivendo questa uno di voi allora che cosa succede tutto questo questo vuol dire pensiamoci bene uno può pensare che ci possa essere un'informazione che viaggia a una velocità addirittura superiore della luce che possa passare da una particella all'altra non è così perché è istantanea la cosa non ci può essere niente che possa superare la velocità della luce che voi sapete bene che è 300.000 km al secondo no? e allora allora vuol dire che non esiste separazione tra queste due particelle non esiste lo spazio e non esiste neanche il tempo cioè sono come si dice non locali adesso vi do la spiegazione ancora più più esplicativa sotto un certo profilo no? va bene in questo momento non so se voi avete uno smartphone o un pc davanti a voi un mac quello che sia bene voi sapete che quel mac quel computer che vi sta davanti è locale in quanto è poggiato e localizzato che può essere su un tavolo o qualunque altro punto dove lo potete assolutamente mettere ma tutte le cose che le domande che mi stanno arrivando da vari punti d'Italia come tutte le varie frequenze alle quali può essere collegato questo computer sono non locali cioè sono ovunque non hanno una localizzazione precisa sono dovunque intorno a noi è come anche il telefono il telefono il cellulare il cellulare evidentemente è localizzato lo metto sul tavolo ma la telefonata che può arrivare cioè tutte le frequenze che io riesco a captare attraverso il telefono sono tutte intorno a noi la radio la televisione qualunque altra cosa chiara la differenza adesso tra locale e non locale quindi noi ritornando al punto di partenza noi dobbiamo partire dal presupposto che la prima cosa da fare visto che non possiamo staccarci dal nostro io perché il nostro io è un po' come la nostra ombra non possiamo staccarci dobbiamo soltanto riuscire a convincerla a rendersi complice della nostra attività questo è l'aspetto fondamentale è metterla un po' sotto controllo non lasciargli assolutamente lo scettro del comando a un certo punto il nostro Domenico ha suggerito una cosa e ha buttato lì ma in realtà l'ha buttata fino a un certo punto perché ha parlato di potenza magnetica del cuore bene questo è estremamente importante è quello che in realtà ci può dare il propellente per riuscire a come dire a entrare in connessione con l'energia del campo quantico e questo è l'aspetto straordinario e fondamentale vedete il cuore ha una potenza magnetica 5.000 volte più potente del nostro cervello se noi ci abituassimo a coltivare quelli che sono i sentimenti del cuore e non le emozioni che sono i prodotti finali di ogni esperienza sono le firme chimiche quindi ci riportano comunque sempre al passato mentre noi dobbiamo proiettarci verso il futuro in modo tale che non dobbiamo sempre pedissequamente seguire i nostri come dire i nostri programmi mentali i nostri i nostri modelli che ci riportano sempre a una vita sempre la stessa sotto un certo profilo per cui in realtà noi in questa maniera non facciamo altro che soddisfare il nostro essere mammifero perché il mammifero ha al cuore soltanto uno scopo fondamentale che è quello della sopravvivenza dell'unità biologica ma noi siamo di più di una unità biologica ciascuno di noi abbiamo detto ha un modello sicuramente ha una personalità però noi non siamo quel modello non siamo quella personalità siamo qualcosa di molto di più questo è l'aspetto fondamentale quindi l'aspetto effettivamente che ci deve portare a cambiare totalmente la nostra vita è quello di entrare in un rapporto diretto con la la coscienza ma è una coscienza che non è che non appartiene a ciascuno di noi è una coscienza universale non locale che ci mette in contatto con il campo quantico e ribadisco il concetto certo noi abbiamo la possibilità attraverso la visualizzazione un giorno vi parlerò della dei tre delle tre parti di cui è formato il nostro cervello adesso se mi metto a parlare pure di questo finiamo per arrivare alla fine della nostra chiacchierata senza aver potuto dare veramente qualcosa di definitivo e soprattutto di concreto e di pratico mentre invece ripeto e ribadisco il fatto di coltivare determinati sentimenti che sono quelli del cuore sto parlando ovviamente della gratitudine sto parlando della compassione sto parlando del perdono sto parlando dell'amore inteso ovviamente in senso incondizionato perché se voi mi parlate di amore un amore che vi fa soffrire che può essere geloso possessivo non si parla di amore non è amore l'amore deve essere qualcosa di assolutamente incondizionato ebbene nel momento in cui noi dovessimo coltivare questi sentimenti tecnicamente matematicamente come dire praticamente se noi dovessimo fare un elettrocardiogramma e nello stesso tempo un elettroencefalogramma vedremmo che i nostri due tracciati sono completamente coerenti e armonici ma attenzione basta un moto di paura un moto di rabbia per scatenare il disordine e il caos e quindi si ritornerebbe di nuovo a una vita caotica come quella di prima invece con l'aiuto del cuore un'altra volta vi parlerò della scienza del cuore del secondo cervello il terzo cervello e l'intestino questo è l'aspetto importante che vi permette di poter utilizzare due aspetti fondamentali che vi possono portare nel vostro campo quantico e il campo quantico abbiamo sentito sempre parlare di come dire di legge d'attrazione ma la legge d'attrazione che cos'è la legge d'attrazione è la legge di risonanza cioè frequenze uguali che rispondono e entrano in correlazione in modo tale che qualunque oggetto qualunque persona anche risponde a determinate frequenze e se noi vibriamo secondo quella frequenza di quell'oggetto di quello stato d'animo di quella persona noi attrarremmo quella persona quello stato d'animo e quell'oggetto istantaneamente come fatto di entanglement in realtà noi siamo tutti vicini siamo tutti uno come lo siamo stati al momento del grande botto del big bang dove tutto era connesso interconnesso apparentemente noi siamo separati perché noi diamo prevalenza a una parte del nostro cervello che è l'emisfero sinistro che vede tutti i dettagli ci vede tutti separati l'uno con l'altro mentre in realtà noi facciamo parte di un unico flusso di energia e questo è l'aspetto per cui abbiamo una coscienza che è singolare e mai plurale che è una coscienza universale che è una coscienza non locale ora per riuscire a come dire a connetterci con il campo quantico ci vogliono due cose fondamentalmente una chiara intenzione e un'elevata emozione e io aggiungo Alberto la presenza nel momento è chiaro poi ovviamente il discorso è nel qui e ora mi hai anticipato nel momento presente perché solo nel momento presente possiamo diventare creatori questo è il dato di fatto fondamentale ma qui mi fermo perché a questo punto se no veramente non do la possibilità a voi di farmi delle domande e grazie alle domande posso darvi anche delle risposte precise allora Alberto c'è una domanda prima di farla ti ringrazio per l'entanglement perché quella è stata parlo per me la porta che mi ha fatto capire come funziona la coscienza collettiva all'inizio si pensava che la persona pensa che quello che ha come intuito sia frutto di una propria idea perché l'ego se ne appropria la personalità se ne appropria quando in realtà se ci apriamo e apriamo il cuore a questa idea siamo interconnessi ovunque quindi se una persona ha un'idea dall'altra parte del mondo se io sono presente la intuisco pure da qua e la metto in opera è un qualcosa che hanno studiato anche sugli animali nella loro evoluzione quando hanno fatto l'esempio della scimmia che rompe la noce di cocco all'inizio non riuscivano dalla prima che ci è riuscita questa informazione ha raggiunto tramite l'entanglement tutte le particelle universali e noi siamo quelli è la famosa centesima scimmia è meraviglioso l'entanglement andate veramente a vederlo perché dà una risposta concreta a un concetto intangibile che è la coscienza collettiva è meraviglioso ma ti dà una sensazione anche alla telepatia sì alla telepatia tanto altro Lara X ti voleva fare una domanda Lara puoi fare la voce o se vuoi la leggo io se vuoi far la voce devi aprire il microfono tramite il tasto apposito vediamo se se c'è se no te la leggo io Alberto se ce l'ho qua davanti ok allora Alberto Lara dice ma continuando a dare così tanta importanza ai nostri desideri non si rischia di vivere una vita fine a se stessa perdendo di vista il potere della connessione con gli altri allora intanto è chiaro che a un certo punto ci deve essere anche un'evoluzione e non si parla di desideri purtroppo noi rispondiamo esclusivamente ai desideri soltanto che dobbiamo metterli sotto controllo questi desideri e capire esattamente se è un desiderio del nostro ego o se effettivamente dal nostro vero o se no ma in realtà il desiderio di tutti quanti è quello di essere felici credo che al di là di tutto se dovessimo chiedere ai nostri figli che cosa vorrebbero fare da grande ti potrebbero rispondere in tante maniere chi vuol fare il papa chi vuol fare l'astronauta chi vuol fare l'ingegnere chi vuol fare il medico ma dietro tutto questo c'è un solo una sola finalità quello di essere felici e questo è direi la cosa fondamentale e allora vogliamo essere felici vogliamo essere geniali vogliamo essere sani queste sono le cose fondamentali non è certo quello di dover essere ricchi a tutti i costi e questo è il desiderio oppure avere quella macchina ma la legge di attrazione non funziona così non è che pensando di poter avere un BMW fiammante la ritroviamo nel nostro garage l'indomani le cose non avvengono questo può avvenire nella new age ma non nella realtà noi dobbiamo in qualche modo riuscire a entrare in rapporto con l'energia del campo quantico io vi dicevo prima di una chiara intenzione guardate avere una chiara intenzione di quello che effettivamente si vuole è abbastanza complicato ma nel momento in cui effettivamente noi desiderassimo di essere felici e a questo pensiero che ha una carica elettrica non dimentichiamo e uniamo una elevata emozione che ha una carica magnetica noi creeremo realmente un campo elettromagnetico che richiamerebbe nella nostra orbita esattamente ciò che noi vogliamo questo è il fatto fondamentale su tutto però ma attenzione giustamente come dice Lara il desiderio ma il momento in cui c'è un fatto fondamentale che noi per riuscire a entrare in collegamento con l'energia del campo quantico non possiamo entrare così come siamo con il nostro ego dobbiamo andare oltre oltre per esempio a quei cinque parametri che rappresentano il nostro modello quindi oltre le persone oltre i luoghi oltre le cose oltre gli eventi oltre il tempo ma soprattutto nel momento in cui dobbiamo veramente avvicinarci e attraversare il ponte che ci avvicina al campo unificato di infinita intelligenza e infinito amore non possiamo più essere qualcuno dobbiamo diventare nessuno dobbiamo spogliarci di tutto solo in questa maniera possiamo pensare di poter veramente cominciare a toccare con mano quella che può essere quell'energia del campo quantico e qualunque cosa noi finiremmo poi per desiderare ci verrebbe incontro da sola nella maniera più inaspettata perché nella quantistica non è come nella fisica classica per cui abbiamo una causa che determina un evento nella fisica quantistica noi dobbiamo puntare esclusivamente sull'effetto la causa non è di nostra pertinenza io Alberto ti ringrazio per aver riportato ordine sulla legge d'attrazione e anche io condivido che sia un fatto new age la spiegazione che danno alla massa critica di persone la legge d'attrazione non attira a te quello che tu desideri perché il desiderio è un'opera della nostra personalità che percepisce una mancanza ma se io ho capito di essere unificato al campo non mi manca niente e dunque non posso proprio produrre dei desideri sarò presente e interconnesso ma badate bene vorrei farvi un esempio e parlare un attimo di neuroscienze per farvi capire qualunque cosa noi apprendiamo in questo momento io vi ho dato tutta una serie di informazioni vero o no? probabilmente le conoscevate probabilmente sono nuove l'importante è che voi crediate a quello che io vi dico semplicemente perché quella verità è già dentro di voi la riconoscete già dentro di voi ma attenzione solo per il fatto di avervi dato una serie di nuove informazioni è successo qualcosa nel vostro cervello si è creata una nuova rete neurale tanti neuroni hanno cominciato a collegarsi gli uni con gli altri ma attenzione se a un certo punto adesso noi ci salutiamo e poi voi continuerete a fare le vostre cose andrete a dormire eccetera e non penserete più a ciò che vi ho detto questa rete neurale si sfalderà per renderla salda dovete pensarci dovete ripetere dovete esercitarvi e allora più questa rete neurale si salderà tanto più sarà facile nel momento in cui farete un discorso che ovviamente è di introspezione di meditazione di visualizzazione perché voi dovete tenere fuori quello che è il vostro mondo esterno non dovete usare le percezioni perché le percezioni i vostri canali percettivi non fanno altro che definire in maniera più materiale il mondo esterno facendovi pensare che è quello che vi influenza che è quello che è più importante del vostro mondo interno non è così dobbiamo cambiare il paradigma cioè voglio dire il mondo non è cattivo brutto e cattivo e quindi di conseguenza voi state male ma il mondo è cattivo e brutto perché state male questo è il discorso è capovolto tutto il discorso non so se ho reso bene l'idea Alberto se la ricolleghiamo alla spiegazione principale è l'osservatore che crea il collasso dell'onda quindi se io dentro di me ho invissuto una personalità sintonizzata sulle frequenze del mondo brutto e cattivo che mi vuole punire la mia osservazione produrrà quegli elementi nella materia e io ne sarò sempre più convinto allora l'unico modo è lasciar fuori perché ovviamente la personalità non la puoi escludere io la ritengo utilissima a vivere in questa dimensione materiale è fondamentale ma c'è un momento in cui quel paradigma lo dobbiamo cambiare da osservatori e non possiamo farci influenzare dalla personalità non siamo quello quello è il nostro vissuto io credo che sia così Alberto dovete cambiare dobbiamo cambiare la personalità cioè il nostro modo di pensare di agire e di sentire perché solo in quella maniera potremmo modificare realmente la nostra realtà e questo è il dato rifatto fondamentale ho delle domande Alberto per te si stanno scaldando hanno la mano calda come nell'NBA e allora Giuseppina dice capisco che i pensieri negativi andrebbero eliminati ma a volte arrivano senza rendersene nemmeno conto come si può fare in che modo si eliminano allora il pensiero negativo lo stato d'animo negativo lo puoi cambiare in due maniere in ogni caso è una rappresentazione soggettiva no? per cui uno si sveglia triste e malinconico perché ci sono questi pensieri io vi ho detto che bisogna distogliere l'attenzione da quei pensieri quindi già il fatto di cominciare a sostituirli con dei pensieri positivi intanto se questo è un pensiero compulsivo dal quale non ne uscite basterebbe fare questo basta un rumore per distogliere il pensiero e dopodiché sostituirlo con qualcosa di positivo e torniamo alla presenza Alberto torniamo alla presenza perché a un certo punto pensi ma che cosa c'è di bello nella mia vita e cominci a pensare a tutte le persone che ti amano al fatto che tu sei in grado di poter rimanere come posso dire incantato di fronte al sorriso di un bambino di un fiore che sboccia di tutte quelle cose che forse non ce ne rendiamo conto di quanto siano importanti nella nostra vita e se a un certo punto ci pensiamo possono essere veramente centinaia che valgono molto ma molto di più di quel pensiero di tristezza e di infelicità che non fa altro che avvelenare la nostra vita considerando soprattutto e questo però tutto un altro discorso perché dovremmo parlare dello stress e qui finiremo stanotte quello che è importante occhio Alberto a dirlo qui perché abbiamo fatto anche l'una a volte qui rimangono ecco voglio dire voglio dire il secondo elemento nel momento in cui volessimo cambiare il nostro stato d'animo da rappresentazione soggettiva basta cambiare lo stato fisiologico allora qualcuno di voi è stato mai andare in palestra io sì Alberto ecco mi volete dire un attimo una volta che siete usciti dalla palestra vi siete mai trovati di cattivo umore mai no io no assolutamente c'era tutto il giro degli specchi Alberto c'era lo specchio che ti faceva più grosso quello più carino quello no quindi uscivi sempre felice perché svuotavi quel contenitore esattamente allora a questo punto se non andate in palestra per questioni di lockdown di queste cavolate qui allora io vi chiedo vi suggerisco di fornirvi di un piccolo materassino elastico beh basta figuriamoci quando eravamo bambini saltare su un tappeto elastico era il massimo della gioia della goduria no sotto tutti i punti di vista beh un piccolo tappetino basta cominciare lì a saltellare su quel tappetino elastico e vi assicuro che vi cambia qualunque umore confermo perché noi in Austria ce l'avevamo e lo abbiamo usato tutti i giorni abbiamo registrato anche dei video divertentissimo Alberto Azzurra ti fa una domanda allora ti chiede bel tempo guarda Azzurro ti dice ti chiede come si fa a spogliarsi di tutto Alberto perché ci è così difficile perché ci è così difficile perché non si impara la meditazione come deve essere fatta perché vedete nel momento in cui noi chiudiamo gli occhi ci tappiamo le orecchie con della musica rilassante non utilizziamo ovviamente nell'odorato nel gusto nell'olfatto noi entriamo dentro noi stessi ci saranno i pensieri probabilmente no? che ci assalgono e già il fatto di dover pensare a quello che abbiamo fatto ieri o a quello che faremo domani è uno sforzo notevole invece ritornare al momento presente al qui e ora ma nel momento in cui siamo così concentrati potremmo essere tanto concentrati da catturare il silenzio il silenzio che è tra un pensiero e l'altro alla radice Alberto mi stai parlando della legge di potenzialità pura meraviglioso riprendere contatto col silenzio interiore ecco e lì è la natura è la natura per quello basta anche una frazione di secondo in quel momento quella frazione di secondo può dilatarsi perché in quel momento non c'è ne più nello spazio nel tempo ebbene voi incontrate realmente che cosa la vostra vera essenza io la chiamo essenza forma esatto puoi farla come ti pare certo è così in realtà Alberto scusa in un video tu parlavi di cambiare ritmo della respirazione per togliere i pentieri ossessivi potresti spiegarselo esattissimo cioè è chiaro che nel momento della concentrazione se cominci a gestire a saper gestire il tuo respiro in realtà è uno degli aspetti fondamentali quello perché vedi ad ogni azione dell'uomo corrisponde anche un tipo di respirazione no perché se tu sei in poltrona a leggere un bel libro eccetera è un tipo di respirazione molto calmo e tranquillo se devi inseguire un autobus che non si è fermato alla tua fermata cambia la tua respirazione se sei in preda a qualunque emozione beh tu hai tutta una serie di respiri che possono essere accelerati spezzati sospesi ed è ovvio che nel momento in cui tu riuscissi a gestire la tua respirazione in modo molto profondo molto calmo beh entreresti in uno stato di totale relax no chiaro questo e oltretutto se tu riuscissi in qualche modo a fare una sorta di training autogeno per cui ti dedicassi per esempio cinque minuti al giorno a questo tipo di respirazione che adesso ti insegnerò o addirittura prima di addormentarti non solo ti agevolerebbe il sonno e ti farebbe dormire in maniera più tranquilla ma questo training autogeno ti permetterà il giorno in cui per qualunque situazione che vuoi che ti innervosisca o ti arrabbi o ti impaurisca eccetera basterà che rifare questo tipo di respirazione per ottenere istantaneamente una respirazione calma e tranquilla che ti permetterebbe di gestire qualunque situazione che altrimenti ti sfuggirebbe di mano volete impararla? assolutamente sì Alberto sì assolutamente allora mettetevi se siete distesi state distesi se siete ovviamente in sulla sedia non accavallate le gambe non incrociate le braccia dovete essere assolutamente disponibili e aperti ok? chiudete anche gli occhi tranquillamente e cominciate a buttare fuori il vostro fiato e attraverso il naso cominciate a ispirare lentamente contando fino a 5 a questo punto mi potresti chiedere sì d'accordo ma come devo contare 1, 2, 3, 4, 5 oppure 1, 2, 3, 4 no secondo la vostra frequenza cardiaca la frequenza cardiaca che cogliete dalla palpitazione dell'arteria sul polso o dalla carotide basta farlo una volta perché vi rendiate perfettamente conto del ritmo allora buttate fuori il fiato cominciate a inalare con il naso attraverso il naso contando fino a 5 rimanete in apnea ancora fino a 5 e poi nella fase di espirazione contate fino a 10 questo anche attraverso la bocca provate naturalmente se non ce la fate fate 4 4, 8 no poi man mano riuscirete a farlo anche più a lungo prima che vi addormentiate risvegliatevi un po' forza avete capito adesso come funziona stanotte prima andare a dormire provateci oppure se vi svegliate se vi svegliate nel cuore della notte perché a un certo punto intorno alle 2 35 2 3 quarti eccetera c'è il picco della melatonina e poi trovate difficoltà a riaddormentarvi fatelo questo questo esercizio vedete che vi aiuta a riaddormentarvi rapidamente ok io Alberto in supporto a quello che hai spiegato prima anche per quella persona volevo dire questo quando arriviamo alla consapevolezza di dove ci troviamo in questo momento io lo chiamo il gioco degli opposti Alberto proprio perché tramite il principio di polarità l'osservatore può decidere esattamente la sua realtà a un certo punto ci deve essere anche il godimento e il piacere di andare con presenza in una fase negativa non possiamo pensare di venire qui e c'è sempre il sole anzi perché perché nelle fasi negative si incontrano i propri maestri si incontrano le prove si incontrano i problemi e affrontarli con questa consapevolezza vi mette praticamente al riparo dal dovere evitare con paura timore o dubbio quello che non ci piace allora scusami questa volta faccio un po' di pubblicità a me stesso posso farla? Quanta ne vuoi siamo marchettari per lavoro qua Alberto quindi qua puoi parlare di quello che vuoi no semplicemente perché quello che hai detto è talmente vero perché rappresenta un po' direi il tema della mia trilogia del monaco sono tre libri uno è il cammino del cercatore il secondo è il monaco che scambiò il suo orologio con un paio di scarpe da tennis e il terzo io sono quello sono tre libri completamente separati non è che uno deve per forza comprarsi tutti e tre no però è effettivamente quello che sta succedendo in questo libro in cui il monaco che poi non è un monaco rappresenta sì il maestro del sé ma è il maestro che è in ciascuno di noi in questo caso è quel maestro che mi ha condotto ha condotto il giovane Alberto che è il co-protagonista chiamiamolo così verso la sua strada di crescita personale e soprattutto di conoscenza del sé perché proprio nell'ultimo libro io sono quello è proprio la dimostrazione di quello che vi stavo dicendo prima se io non sono i miei pensieri se io non sono le mie emozioni se non sono che posso dire le mie reazioni se non sono il mio corpo se non sono questo né questo né questo allora vuol dire che sono quello questo è l'aspetto fondamentale ecco questo volevo dire perché esattamente tu hai colto Domenico con quella battuta esattamente quello che io ci ho messo tre libri per scriverlo ecco vero mi fa piacere Alberto leggo anche Alessandra che dice si può imparare anche senza dolore allora Alessandra il dolore nella scala del ritmo è una percezione individuale attenzione attenzione il dolore è del corpo la sofferenza è della mente esatto e in più sono percezioni ovvero il dolore fa parte dell'osservatore certo che si può imparare anche senza dolore dipende da cosa intende l'osservatore parlando di dolore perché è come il caldo e il freddo Alberto il problema sai qual è quando uno vuole cambiare il cambiamento non è mai doloroso semmai è doloroso la nostra resistenza al cambiamento esatto stavo arrivando qui io mi diverto tanto con il nostro gruppo quando per far capire questo esempio quando si parla di caldo e freddo caldo e freddo sono due percezioni nella stessa scala del ritmo il freddo è qualcosa che non esiste lo conosciamo noi perché ce l'hanno spiegato da piccoli ma più non c'è calore più si parla di assenza di calore il dolore fa sempre parte di un'altra scala del ritmo che dipende dall'osservatore come dice Alberto il dolore è provocato da quanta resistenza io applico osservando la mia realtà perché lasciando fluire la frequenza è unica è quella della gioia che è una delle frequenze più elevate che un essere umano può esprimere io mi sento di dire questo Alberto io la chiamo la dimo sulla ruota che fa accendere la luce ci serve questa resistenza serve serve per capire chi siamo per metterci alla prova per crearci la realtà olografica che noi stessi scegliamo un po' Alberto mi faccio il mio percorso ad ostacoli se non riesco a saltare a due metri me lo metto a uno è un ostacolo comunque per me e la corsa è la mia vita quindi non guardo più fuori per definire qualcosa la sento dentro certo certo ma dentro ti renderai conto che gli ostacoli sono quelli che stai mettendo tu esatto infatti ho detto mi faccio il mio percorso a ostacoli alla mia altezza ovviamente e quella è quella giusta è l'assoluto di ognuno Giovanna ti dice io ho paura del cambiamento vuoi dirgli qualcosa a Giovanna se tu sei soltanto esclusivamente un mammifero giustamente hai paura del cambiamento perché fuori c'è l'insicurezza c'è il disagio e quindi non vuoi cambiare d'altra parte ritornando al discorso che facevo prima della mia amica che ha il compagno violento dice beh tutto sommato ecco il mammifero quello è il suo modo di voler bene e finora sono sopravvissuta è quello il discorso ma tu sei qualcosa di più di un mammifero o no? e quando noi pensiamo di essere veramente come dire i demiurghi di noi stessi siamo noi che creiamo non c'è un altro che ha creato la nostra vita perché se effettivamente tutto fosse stato creato come ci hanno insegnato con il catechismo noi saremmo degli esseri insignificanti non potremmo cambiare assolutamente niente eppure giorno per giorno dimostriamo che possiamo trasformare la nostra vita siamo veramente degli scultori che plasmano la propria vita ed è compito nostro quello di trasformare la nostra vita in quel capolavoro che merita di essere e qui torniamo al discorso di quanto è fondamentale l'io sono in quel momento tu non ti rapporti con la realtà attraverso la personalità è la personalità che crea la gabbia perché se una persona oggi va in giro e dice io creo la mia realtà la osservano come un pazzo perché la maggior parte delle persone intorno a lui la subiscono con la stessa realtà attraverso la personalità ecco quanto è fondamentale meditare stare in se stessi la potenzialità pura di cui ha parlato prima Alberto il contatto con la natura il contatto con chi sono io davvero ma vedi il prima si parlava della paura del cambiamento e qui è Don Fulgenzio il monaco dei miei libri che ti dice in realtà vedete noi siamo tutti uccelli in una voliera e crediamo che questa voliera abbia sia chiusa sia bloccata sia serrata in realtà non ci sono le porte ma noi siamo convinti che ci siano e non spicchiamo mai il volo verso la libertà e questo è l'aspetto fondamentale che ci dobbiamo rendere conto che noi potremmo realmente riuscire a fare cose incredibili ma non c'è bisogno di essere dei lama tibetani dei maestri dei mistici le persone più comuni se imparano veramente queste tecniche possono realmente fare qualcosa fuori dal comune farò una battuta Alberto ma in tv i maghi ce n'è uno famoso non dico il nome perché stia registrando hanno bisogno proprio di travestirsi quando all'interno di loro quella maestria non c'è ecco perché gli insospettabili sono insospettabili proprio perché per loro è la normalità quel tipo di vissuto e di creazione della propria realtà è l'ostentare che vi fa capire immediatamente che c'è qualcosa di distante da quel concetto anche come si travestono queste persone Alberto la dicono lunga perché quella è una scelta che deriva dalla personalità nulla è casuale nell'osservazione anche quella assolutamente no e stavo guardando se ci sarà Giovanna lei Giovanna mi dice io non ho paura allora Giovanna ho letto veloce però alla fine siamo qua e sicuramente qualcuno che sta osservando ha paura di cambiare poi ho riletto dopo come dicevi tu però immagina ho gli occhi di vetro io a quest'ora non ce la faccio niente più a leggere in piccolo Giovanna non ha paura perché lo so però sicuramente qualcuno sì la risposta era utile penso per quelle persone ma il problema che la ritorniamo al discorso vedi se noi continuiamo a utilizzare i nostri circuiti percettivi definiamo la nostra realtà in termini materiali ora in termini materiali possiamo anche cambiare qualcosa ma ci mettiamo talmente tanto che non è più possibile riuscire per esempio voglio dire siamo malati e ci affidiamo al medico ci affidiamo a tutta una serie di farmaci eccetera quando è possibile istantaneamente cambiare questo stato di cose soltanto affidandoci a quell'intelligenza straordinaria che è all'interno di noi che ci mette in contatto con il campo quantico il campo diciamo di unificato di infinita infinita intelligenza infinito amore quello di cui parlavo parlavo prima questo è l'aspetto fondamentale ma nel momento in cui noi concepiamo che il nostro mondo interiore è molto più vero e reale del mondo esterno che il mondo esterno è soltanto illusorio che è maia che è effettivamente un'illusione che ci siamo creati noi che pensiamo che possa assolutamente influenzarci noi non dobbiamo pensare che è l'ambiente che ci influenza ma dobbiamo essere noi ad influenzare l'ambiente e questo è l'aspetto purtroppo noi stiamo vivendo in una particolare momento storico in cui quasi da cominciare dalle televisioni dai giornali eccetera che vogliono assolutamente incuterci quel terrore e quel chip della paura per cui noi a un certo punto pensiamo che l'esterno debba essere assolutamente molto più importante e quindi vada a influenzare i nostri stati d'animo noi possiamo capovolgere questa cosa ma ognuno deve essere libero di farlo non ci può essere qualcuno che possa condizionarlo ecco io una cosa che non sopporto è il condizionamento io quello che sto cercando di fare attraverso i miei libri attraverso i miei video attraverso queste mie chiacchierate è quello di darvi gli strumenti per autoliberarvi e questo l'aspetto fondamentale e siete voi poi a decidere se utilizzarli o meno ma basta che una sola persona di voi lo faccia a secondo della propria tecnica perché non esiste una tecnica come un'aspirina che fa bene per tutti ognuno di voi deve cercare la propria tecnica il proprio modo il proprio modo di avvicinarsi al campo quantico io vi ho dato solo questa formula dove utilizzare avere un'idea chiara esattamente di quello che volete fare unita ha un'emozione straordinaria è quell'emozione che poi è la chiave che entra nel campo quantico è la parte magnetica questo è l'aspetto fondamentale è la sublimazione Alberto è la sublimazione come vuoi chiamarla certo questo è il discorso fondamentale Alberto come facciamo sparire le bollette della luce non usando la luce la luce è dentro di te che bisogno c'hai di usarla no si scherza perché l'altra volta le preoccupazioni delle bollette da pagare ma se tu non ci pensi se tu non ci pensi vedrai che si risolvono da sole queste cose ma se tu vai dei crei uno stress continuo del pagamento delle bollette del pagamento dei debiti del fatto che non c'hai una lira in tasca e poi a un certo punto però dici beh tutto sommato sono sopravvissuto allo stesso beh non è questo il modo di riuscire a risolvere la tua vita capito questo è assolutamente devi distogliere l'attenzione da questi aspetti che sono in fin dei conti meno importanti di quello che sei tu al tuo interno questa è la cosa fondamentale poi ho anche ti ho dimostrato nel momento in cui parlavamo dell'atomo e qui apro un altro un altro versante che però non possiamo assolutamente approfondire perché veramente mia moglie mi caccia di casa che è quello che se l'atomo è formato minima parte di materia e per il 99% e più è fatto di energia questo che cosa vuol dire? vuol dire semplicemente che la morte non esiste Alberto lo dobbiamo fare un incontro quando tu potrai perché hai toccato questo argomento qua è un argomento su cui lavoriamo da tanto do la parola a leggo Vanessa però ciao Claudio ti do la parola così puoi fare la tua domanda ad Alberto grazie buonasera Alberto buonasera a tutti ciao 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 Alberto quanto secondo il tuo punto di vista la creatività del nostro essere ci può aiutare a lasciare spento lo stagno della mente quindi sollevarsi da questo fardello e prendere un cammino diverso da quello che abbiamo sempre da quello che ci hanno sempre insegnato e da quello che abbiamo sempre vissuto quindi dalla totalità delle nostre esperienze quindi quanto lo stato creativo dell'animo che tradotto in questo piano diventa arte può diventare qualsiasi cosa ci può avvicinare a diciamo a questo mondo che tu definivi prima il quantistico e questa questa energia della quale facciamo tutti quanti parte noi quindi quanto la creatività ci può aiutare a sganciarsi da questa cabbia mentale che il nostro ego il nostro io guarda la creatività è il primo punto di partenza assolutamente anzi ti dimostra proprio che l'arte l'essere artistico tu pensa a un pittore pensa a uno scultore pensa a un progettista pensa a uno scrittore pensa a un compositore no tutti coloro che usano la creatività ebbene che cosa fanno quello che dovremmo fare noi con la nostra realtà cioè crearla prima nella propria mente visualizzarla e poi realizzarla nella realtà quindi quanto più sei creativo più riesci a creare la tua realtà nel modo che è più confacente con te stesso non solo ma a questo punto vedi in questo momento ribadisco in questo momento storico così periglioso così faticoso così senza speranza senza senza un futuro eccetera questo capovolgiamo il nostro paradigma pensiamo che invece di essere in un momento di crisi siamo in un momento di rinascita cominciando realmente a sfruttare tutte le opportunità che ci offre la nostra creatività e veramente riusciremo a trasformare la nostra vita forse a vivere un domani in maniera forse meno lussuosa senz'altro ma io mi auguro in una dimensione più umana e questo è fondamentale che veramente il compito che ciascuno di noi si deve prospettare non bisogna mai arrendersi we shall never surrender questa è la cosa fondamentale assolutamente guarda ok grazie prego a te grazie a te Claudio domanda importantissima anche perché la creatività e la creazione è legata proprio all'energia sessuale e pensiamo oggi che modello abbiamo noi riguardo all'energia sessuale la maggior parte non la conosce nemmeno e quindi non riesce proprio stai diventando tantrico beh è quello che che credo che penso lo condivido giusto giusto quanto noi oggi non la sappiamo in qualche modo conoscere prima e veicolare dopo quindi io credo che il primo passo per quello che ha detto Claudio sia proprio la volontà e il voler volere abbandonare un modello omologato se io mi cibo dallo stesso modello che disprezzo sarò diviso e quei due emisferi di cui parlava Alberto rimarranno tali se io comprendo di essere ogni cosa e rispondo a un'altra domanda che ho letto sui condizionamenti ecco che condizionamenti non possono più esserci la potenza creatrice arriva quando tutto è localizzato in un punto che è io sono e da lì dal cuore magnetico parte e arriva in ogni dove ed ecco è qui che c'è il salto e non è detto che sia per tutti nello stesso momento anche quello sarebbe un modello se io dicessi questo è quello che dobbiamo fare tutti adesso starei mentendo perché ognuno deve essere chi è in questo momento perché ognuno è interconnesso all'altro e c'è la persona che in questo momento è pronta a fare il salto ma la propulsione chi la crea chi è ancora legato al modello ed è un cerchio è un circolo è un ricircolo quindi si fa quando si sente quella potenza creatrice che tutto può ecco dove scompaiono le paure condizionamenti e quant'altro ma affinché io decido ancora di appartenere a un modello ne devo in modo implicito accettarne i condizionamenti certo certo senti domenico io suggerirei oh che meraviglia quel gatto guarda come si chiama Antonella Antonella come si chiama il tuo gattone Eolo 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 il dio dei venti bene bene sì perché da piccola faceva le scoreggine figura di grande quello che può fare insomma scuote proprio il palazzo io direi forse è il caso di fermarci un attimo qui io vi do se voi lo volete chiaramente la possibilità poi di rincontrarci quando volete in realtà te lo stavo chiedendo io allora Alberto visto che mi avviò la chiusura così ovviamente tua moglie sta anche più tranquilla ti abbia rapito per queste ore ma sono state ore meravigliose ti ringrazio di cuore Alberto io ringrazio voi ringrazio voi ma sai perché ti ringrazio di cuore perché non sei venuto qua solo a parlare ma c'è stato un punto che è riconnessa col campo quantico si è visto fine quindi grazie di cuore e sì ogni volta che tu vorrai ormai i nostri numeri ce li abbiamo ogni volta che tu vorrai e puoi noi creeremo un ambiente di questo tipo ci vuole la tua volontà la nostra no 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 ma la mia volontà c'è tutta sai benissimo che il mio compito è proprio quello di essere al servizio dei miei simili questo è il dato di fatto fondamentale meraviglioso vorrei 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 soprattutto una cosa però che la prossima volta ci siano delle domande ben precise in modo che non sia dispersivo perché ho parlato di tante cose e probabilmente qualcuno di voi avrebbe voluto approfondire determinati elementi e non altri quindi ecco da questo punto di vista mi preferirei posso una testimonianza che Alberto non è il testo aspetta aspetta fermi si sente malissimo se hai una cuffia ti sentiamo bene se no scrivi sulla chat e gliela leggiamo noi perché va proprio a scattivare adesso si vai ok posso fare una testimonianza che Alberto non è testimone di questa testimonianza certo che si volentieri ciao Alberto sono Diana da Como ah beh infatti ti avevo riconosciuto Diana come stai come stai tutto bene grazie scusa che è buio perché sono fuori al terrazzo allora io seguo Alberto dal 2012 ho iniziato a seguirlo su Youtube e su Facebook e poi chattavo anche con lui ogni tanto perché sono una grandissima rompiballe e dentro di me era nato il desiderio di conoscerlo di persona e senza far nulla me lo sono ritrovata a casa mia a dormire momento momento aspetta che c'è la moglie però fermi Alberto vai momento momento diciamo che io conosco molto bene il marito che è Antonio prima di tutto è nato dopo oltre che i figli no io sono venuto quando c'era Antonio sì però c'era Antonio è nato prima c'era Antonio Diana c'era Antonio c'era Antonio c'era Antonio certo sì 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 e anche i due splendidi figli di Diana no? senti sì sì effettivamente io mi auguro che si possa ritornare a organizzare delle belle cose come le organizzavamo a Como e dintorni ma comunque vediamo vediamo prossimo futuro va bene? Alberto prima della chiusura se vuoi puoi presentare il Quantum Channel perché io ritengo che sia un qualcosa di importante e la cosa bella che mi ha detto Alberto il costo simbolico del canale annuale che è una roba veramente irrisoria serve per mantenere la struttura però gli argomenti sono questi e io voglio lasciare lo spazio ad Alberto di spiegarvelo dunque Quantum Channel voi conoscete Netflix più o meno ebbene è un Netflix della cultura questo cioè nel senso che ci sono dei video video ovviamente senza pubblicità senza interruzioni di nessun genere si parla di quantistica si parla di tanti tanti argomenti ma anche di mistero cioè nel senso che collaborano con noi anche dei ricercatori indipendenti che quindi non appartengono diciamo al filone accademico ecco quindi è un discorso estremamente interessante che però coinvolge anche altri aspetti oltre ad avere sì diciamo che la cifra è irrisoria che è 24 euro l'anno quindi effettivamente non è una cifra ma mi serve perché ovviamente ci sono quelli che ci lavorano e che quindi hanno tutto il diritto di poter avere qualche soldino da portarsi a casa specialmente in questo momento in cui in effetti poi sono tutti giovani quelli che lavorano in questa web tv chiamiamola così poi c'è anche un altro aspetto che riguarda per esempio l'aiuto che noi possiamo dare per coloro che scrivono libri cioè nel senso che li aiutiamo sia per l'editing sia per l'impaginazione e li mettiamo ovviamente su non siamo degli editori quindi gli editori poi saranno Amazon o saranno YouCanPrint che ve lo mettono su tutte le piattaforme e le maggiori piattaforme e anche su 2000 librerie questo vuol dire che i diritti ovviamente di chi scrive rimangono totalmente a loro noi non c'entriamo assolutamente niente in più facciamo anche un'altra cosa cioè noi abbiamo in animo adesso da quest'estate autunno di creare l'accademia del doppiatori di se stessi cioè insegniamo ai giovani a leggere i libri quindi diventare anche lettori dei libri non solo dei nostri ovviamente ma anche ovviamente di coloro che desiderano che il loro libro venga in qualche modo sapete che l'audiolibro adesso va per la maggiore io stesso continuo ad essere un lettore di Audible Amazon con lettura di libri eccetera nonostante che non trovo mai il tempo di poter fare gli audiolibri dei miei libri ma vabbè questo è un altro tipo di discorso in più oltre al fatto di pagare 24 euro all'anno questo vuol dire non solo di poter godere di tutti questi video che escono a getto continuo dei nuovi e di quello dei nostri collaboratori cioè il podcast c'è il chi non vuole vedere i video se li può addirittura sentire nel podcast oppure ci possono essere interviste eccetera 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 e poi ci sono tutta una serie di risorse del tutto gratuite che possono essere dei corsi che possono essere degli ebook che possono essere dei libri insomma tante belle cose per chi ovviamente può essere interessato a usufruire di questa cosa Alberto ho messo il link di Quantum Channel quello che avevi mandato a me in chat potete vederlo grazie Alberto io hai il mio numero quindi qualsiasi sia l'opera di divulgazione quando hai bisogno che venga divulgata noi ci siamo quindi mandami a me qualsiasi cosa e noi a cascata e quando volete io sono a vostra completa disposizione ok bene lo scambio è fatto abbiamo pure Moragno qui che vuoi abbiamo anche quello è mio figlio Alberto è Lorenzo è il senza forma eccolo eccolo va bene Alberto mi avvia la chiusura ti ringrazio di cuore grazie a tutti i presenti perché io lo voglio ricordare sempre la presenza delle persone anche in ascolto è fondamentale è il risvolto della medaglia ci sono persone che sono qui per parlare ma ci sono persone che sono qui per ascoltare e riprendendo il concetto quantistico di Alberto abbiamo tutti contribuito con la nostra energia a creare una serata meravigliosa io ho guardato un po' è stato veramente bellissimo rispondo sì alla tua richiesta di trattiamo gli argomenti che vogliamo bene noi ci siamo Alberto ti farò avere le domande magari farò un censimento insieme alle persone che sono qui di quali sono le più importanti te le faccio vedere magari su Whatsapp in privato dopodiché quando tu sei libero mi dici il giorno lo faremo sempre di sera mi dici un giorno dove tu puoi io creo la sala creiamo gli inviti rimaniamo in giro tra l'altro vi posso dire una cosa mi pare che tu sia a Torino vero? no io mi trovo in Calabria adesso ma vivo a Certosa di Pavia ah ho capito ah che bello la Certosa di Pavia è stupenda no no torno ai primi di luglio sarò invece in Piemonte tu mandami a me tutto il materiale Alberto tu quando hai un evento che fai anche in presenza o qualsiasi cosa mandami il link o dove vederlo che io lo divulgo a tutto l'ecosistema perfetto benissimo benissimo a tutto il sistema solare insomma va bene a tutto il sistema solare e beh possiamo usare l'entanglement abbiamo non ci spaventa niente da questo punto di vista no 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 perfetto assolutamente io vorrei augurare una felice notte a ciascuno di voi cercate di fare quella cosa che vi ho insegnato e vedrete che ci avrete dei sogni meravigliosi